Canader precipitato nel Catanese, cordoglio anche nel Nisseno per la morte dei due piloti. San Cataldo trovato morto nel Bosco di Gabbara, un giovane che era scomparso nella mattinata di ieri. Plateale gesto di un cinquantenne a Caltanissette in prossimità del ponte di San Michele. Incendi a Niscemi arrestato un uomo dalla polizia. Provvidenza verso la riqualificazione. Ben trovati con il nostro telegiornale. In apertura la tragedia del Canader precipitato nel Catanese, cordoglio anche nel Nisseno per la scomparsa dei due piloti. La tragedia a lingua glossa in provincia di Catania costata la vita a due piloti. Un volo decollato dalla mezzia terme che doveva essere un intervento di routine come ce ne sono stati tanti in centinaia durante il periodo estivo. L'arrivo poi a lingua glossa per spegnere l'incendio iniziato mercoledì pomeriggio. Un volo, il rilascio dell'acqua, una virata stretta, poi la semiala destra che impatta. Particolarmente sentita la vicenda anche nel Nisseno dove sono molti gli operatori del mondo dell'antincendio che operano sul nostro territorio e che quindi si spendono per operazioni di salvaguardia del territorio stesso e delle persone, ancor più nella stagione estiva. E mentre è stata annunciata l'inchiesta della Procura della Repubblica, i carabinieri hanno già fatto i rilievi, arriva anche il messaggio di cordoglio del presidente della regione Schifani. Esprimo profondo cordoglio per la morte dei due piloti impegnati insieme ai nostri uomini e donne del corpo forestale della regione e della protezione civile in attività di prevenzione e spegnimento. I incendi sull'Etna sono vicino alle famiglie e ai colleghi di lavoro colpiti da questa tragedia. San Cataldo trovato morto nel Bosco di Gabbara, il giovane scomparso ieri mattina. È stato trovato senza vita nel Bosco di Gabbara il giovane sancataldese di 34 anni del quale si erano perse le tracce fin da ieri mattina. A lanciare l'allarma erano stati familiari nel pomeriggio di giovedì, preoccupati nel non averlo visto rincasare dopo parecchie ore. Una volta chiamato il 112, sono stati i carabinieri a iniziare le ricerche, setacciando le vie di San Cataldo ed intorni, fino alla tragica scoperta delle scorse ore. Numerosi messaggi di cordoglio sui social network, sulle bacheche di alcuni gruppi di cittadini sancataldesi e anche sul profilo Facebook del 34enne. Adesso saranno gli accertamenti dei carabinieri a ricostruire le ultime ore dello sfortunato giovane e a stabilire la causa precisa del decesso. Plateale gesto di un cinquantenne a Caltanissetta che ha minacciato di buttarsi dal ponte di San Michele. Al centro la questione dell'antenna RAI, il servizio. Momenti di tensione questa mattina sul ponte di via Fraggiarratana che sovrasta via Salemi nei pressi della chiesa di San Michele. Un operatore ecologico di 53 anni ha dato il via a quella che a suo dire era un'azione dimostrativa in favore dell'antenna RAI. L'uomo, che non è nuovo a iniziative forti e che in passato si era già fatto sentire sulla questione antenna, aveva richiamato l'attenzione di passanti automobilisti minacciando di gettarsi dal ponte se non gli fosse stato permesso di incontrare il questore o altri rappresentanti delle autorità, proprio per parlare dell'antenna. Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati polizia, carabinieri e anche i vigili del fuoco, i quali hanno subito approntato il cuscino gonfiabile nel caso l'uomo avesse realmente messo in atto il suo proposito. Le forze dell'ordine hanno cercato di far desistere il 53enne dal suo proposito e alla fine i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e al ricondurlo alla ragione. L'operatore ecologico è stato quindi accompagnato in questura per essere identificato e per gli accertamenti di rito. Sull'antenna RAI negli ultimi tempi si è creato un vero e proprio dibattito tra chi vorrebbe valorizzare la struttura, ormai spenta, che sorge sulla collina di Sant'Anne e tra chi ritiene che andrebbe demolita. Ma era difficile pensare che si arrivasse anche ad assistere a un'azione dimostrativa del genere. Un quarantenne di niscemi è stato arrestato con l'accusa di aver incendiato alcune auto, i particolari. Un niscemese di 40 anni è stato arrestato e condotto agli arresti domiciliari dai poliziotti del commissariato di Niscemi in quanto accusato di aver incendiato un'auto in attesa di riparazione parcheggiata nel piazzale della stazione ferroviaria. Era il 10 giugno scorso. Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, le fiamme si erano propagate investendo altri tre veicoli parcheggiati nelle vicinanze e quindi il rogo assunse proporzioni maggiori. Sulle prime non era stato possibile individuare il responsabile, ma dopo diversi mesi di accertamenti gli investigatori hanno trovato il bandolo della matassa. Decisive anche le riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza posizionate nella zona dell'accaduto e anche nelle vicinanze. Una volta raccolti quanti più elementi possibili, la procura ha chiesto al GIP del Tribunale di Gela di disporre un provvedimento cautelare, che è stato eseguito dalla polizia. Urgono interventi a Santa Barbara, la segnalazione di Salvatore Licata del Movimento Orgoglio Nisseno. Erbacce miste rifiuti per lo più bottiglie di plastica e qualche lattina circondano il perimetro e non solo delle zone dove sono stati installati inizio anno, scivoli e altalene nel villaggio di Santa Barbara, giochi che a distanza soltanto di qualche mese si presentano in alcuni punti già rovinati ed in certi casi pericolosi e con qualche scritta qua e là. Si rende pertanto necessaria una urgentissima messa in sicurezza di tale aria attrezzata, garanzia degli abitanti del villaggio, scrive in una nota Orgoglio Nisseno, in attesa che la stessa sia oggetto di più importanti e risolutivi interventi di riqualificazione urbana. Orgoglio Nisseno ha ritenuto di intervenire relativamente appunto alla villetta di Santa Barbara dopo averlo fatto per altri centri di aggregazione sociale della città di Caltaniseta e soprattutto delle periferie di Caltaniseta perché Santa Barbara rappresenta la periferia delle periferie in quanto tale è un villaggio, quindi è lontana dal centro abitato alcuni chilometri, pertanto ritengo che l'amministrazione comunale debba avere un occhio di riguardo nei confronti appunto di questo luogo. e in particolare del luogo della villa comunale che rappresenta il luogo pubblico centrale, nevralgico del villaggio Santa Barbara. Chiediamo all'amministrazione comunale, chiediamo al sindaco di intervenire urgentemente. Io non penso di avere fatto un intervento nella qualità di coordinatore di Orgoglio Nisseno in maniera sprovveduta. Certamente ci sono tanti amici, in primis c'è la sentinella di Santa Barbara, Luigi Bellavia, che è qui presente, che mi racconta, mi rappresenta tutte le esigenze che riguardano proprio questo villaggio. Non sfuggirà anche come sono tenute le strade, come sono i marciapiedi, spesso impraticabili. Il movimento infatti in passato aveva anche accese riflettori sulle condizioni di un campetto nel quartiere Balate Pinzelli, ristrutturato da poco più di un anno dal comune, si legge, ma chiuso ed inutilizzato, nonostante l'assenza in quella parte della città di luoghi di aggregazione sociale. Il sindaco, prima ancora di dare riscontro a Orgoglio Nisseno, non l'ha mai fatto, questo lo devo sottolineare. Una precisazione del coordinatore che precede la richiesta. Dia un riscontro ai cittadini di Santa Barbara, perché penso lo meritino. Intanto il primo cittadino contattato telefonicamente ci fa sapere che sta immediatamente provvedendo ad un approfondimento con gli uffici. Il quartiere della Provvidenza verso la riqualificazione. Sentiamo il servizio. Dopo il patto territoriale per la giustizia e la bellezza di comunità, sottoscritto nei mesi passati, prosegue il cammino intrapreso verso la rigenerazione e riqualificazione nel quartiere della Provvidenza, un percorso sviluppato sia dal punto di vista urbano che sociale. Il quartiere rimane al centro dell'attenzione anche in questo nuovo protocollo sottoscritto giovedì 27 ottobre, un'occasione per rinnovare l'impegno dei soggetti coinvolti a partire dall'UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna Caltanissetta e Enna. È comune ad esempio, accogliendo anche nuove realtà del territorio nell'ambito della seconda annualità del progetto patto per la giustizia di comunità dalla divergenza alla comunità inclusiva. Si fa rete dunque ciascuno in base alle proprie competenze, per incentivare una maggiore coesione sociale e una cultura riparativa. Quest'anno abbiamo l'introduzione delle forze in ordine grazie alla sensibilità del questore dottore Emanuele Ricifari che è sempre vicino a tutte le attività che facciamo, ma per un semplice motivo abbiamo parlato di coesione sociale, la sicurezza sociale è il primo punto, il primo elemento fondante per partire in sicurezza e fare inclusione. E poi un altro interlocutore privilegiato è Migrantes che a inizio, quando iniziamo il percorso, non era ancora dentro il quartiere Providenza. E da ultimo l'ente gestore, vincitore della gara, coprogettazione realizzata in fase esecutiva grazie alla cooperativa Etnos e al suo presidente Fabio Rubolo. Quindi ripartiamo con laboratori fatti dentro il quartiere con donne e bambini, proprio laboratori emozionali dove i bambini riescono a rielaborare anche determinati vissuti molto forti. I soggetti in esecuzione penale esterna con The Circle Time faranno l'obiettivo alla riparazione, quindi in senso anche lato come cornice metodologica all'interno della struttura di Casa Famiglia Rosetta. E una terza parte del mondo è la scuola, quindi il contatto con gli allievi, penso di 12 etnie, perché la scuola San Giusto raccoglie ben 12 etnie. Noi partecipiamo con quello che è lo specifico delle forze di polizia, quindi questura intesa come ufficio dell'autorità di pubblica sicurezza e quindi in coordinamento con anche l'arma dei carabinieri e le altre forze di polizia, non solo una presenza di battuglie sul territorio, e quella è ovvia e non ci sarebbe bisogno nemmeno della, ma una presenza di uno scambio di informazioni, di osservazioni, di interventi anche preventivi sul territorio che si fanno insieme e quindi realizzano quel concetto di sicurezza partecipata da parte dei cittadini e degli enti che li rappresentano, che è una delle funzioni per cui esistiamo. Si pensa anche alla possibilità in futuro di coinvolgere anche altri quartieri della città, così come racconta il primo cittadino nisseno. Il nostro intendimento è quello di continuare l'esperienza, ci sono nuove associazioni, ci sono nuove collaborazioni, c'è un'area che continua nella stessa situazione come era stata organizzata prima ed è all'interno del quartiere Providenza. Per noi il quartiere Providenza rappresenta la sperimentazione di un metodo che proprio perché è il quartiere più difficile di Caltanissetta, poi dopo la sperimentazione andremo ad applicare agli altri quartieri e nelle problematiche e nelle negatività che sono all'interno degli altri quartieri. Dal 1 ottobre 2022 l'Inps ha esteso agli istituti di patronato e ai medici certificatori la possibilità, già fornita all'utente interessato, di allegare la documentazione sanitaria per l'accertamento medico-legale e la definizione agli atti delle domande di prima istanza nelle regioni in convenzione o revisione di invalidità civile. E' quanto si legge in una nota diffusa dall'Inps. Gli operatori degli istituti di patronato e i medici certificatori che forniscono assistenza al cittadino, si legge nel documento, potranno accedere all'applicativo attraverso il sito istituzionale dell'Inps, autenticandosi con le proprie credenziali di identità digitale. Presentato il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri. È l'ambiente il protagonista del calendario storico dei Carabinieri 2023, presentato oggi anche alla stampa nissena, contemporaneamente la presentazione nazionale a Roma, ottantesima edizione, con una tiratura da 1.200.000 copie, di cui 16.000 in 9 lingue straniere. A firmare il progetto l'Agenzia Armando Testa, che racconta nei 12 mesi, attraverso altrettante tavole artistiche, l'azione dei Carabinieri a difesa dell'ambiente e del territorio del paese italiano. Presenti anche quest'anno 12 storie di impegno e tutela ambientale, scritte dal giornalista e scrittore Mario Tozzi. Per la prima volta il calendario è dedicato anche un sito web, calendario.carabinieri.it, e un'opera d'arte non fungible token, ovvero NTF, certificato di proprietà di un'opera digitale. L'NTF trasforma così la copertina in un'opera high-tech, disponibile in 10 esemplari autenticati che saranno poi successivamente disponibili per la vendita in coppia in edizione limitata. Ricavato sarà tutto devoluto alla struttura pediatrica oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Oltre al calendario, pubblicata anche l'agenda, un'edizione, quella del 2023, che coniuga tra edizione e modernità. Il CEF passa partecipato al forum PaSanità, il più importante momento d'incontro e confronto per gli stakeholder della sanità pubblica e privata, professionisti ed esperti del settore a Roma. Le opportunità e gli investimenti, il ruolo fondamentale della digitalizzazione in sanità, alcuni degli argomenti trattati. Quando parliamo di competenze per la transizione digitale, parliamo di digitalizzazione che ha un ruolo di primo piano per tutti i manager e i professionisti del settore, sia medici sia infermieri. È necessario informatizzare e digitalizzare molti dei processi sanitari rivolti ai pazienti, dalle prenotazioni alle visite screening. Così parla Pier Sergio Caltabiano, direttore della formazione del CEF Pass, intervenendo al seminario dal titolo Quali competenze per la transizione digitale e organizzativa del sistema salute? San Cataldo, previsto per la prossima settimana all'avvio della refezione scolastica. Il servizio. Previsto per la prossima settimana all'inizio del servizio di refezione scolastica a San Cataldo nella Scuola dell'Infanzia, subito dopo la festività di Ogni Santi e la commemorazione dei defunti, un servizio che preannuncia delle novità. Il 3 novembre partirà finalmente la mensa scolastica per la Scuola dell'Infanzia a San Cataldo. Dobbiamo scusarci con i nostri cittadini perché volevamo quest'anno riuscire a partire anche prima con questo servizio, ma abbiamo voluto fare le cose per bene. Tanti gli incontri, abbiamo incontrato genitori, abbiamo incontrato sindacati, abbiamo incontrato la ditta e alla fine siamo arrivati, credo proprio, ad un buon risultato. Sulla mensa della scuola primaria credo che seguirà di poco l'attivazione della scuola dell'Infanzia. Questo perché ovviamente si stanno attendendo gli opportuni adempimenti da parte della scuola e della ditta. E sulla refezione scolastica interviene anche il sindacato Comsals Nalv. La scorsa settimana, infatti, a seguito di un incontro presso l'aula consigliare del comune San Cataldese, tra le parti interessate, aveva espresso la propria soddisfazione anche il segretario territoriale, Grigento Caltanissette d'Enna, Manuel Bonafini, soprattutto per quanto riguarda l'aumento delle ore per le lavoratrici. Sono state raddoppiate le ore a tutte le lavoratrici, che passano da un'ora e mezza a tre ore. Abbiamo avuto l'incontro sia con l'amministrazione che con le lavoratrici e la nuova ditta, che andrà a gestire il servizio. C'è stata una riorganizzazione generale, anche perché abbiamo la scuola della Lambruschini, che è aperta come scuola, ma la cucina è chiusa, quindi è in base di ristrutturazione. Quindi per quest'anno non verrà utilizzata. Quindi il personale sarà distribuito nelle restanti tre scuole. Siamo un buon ritardo per l'avvio della mensa. Un altro anno speriamo che parta prima. Comunque ci riteniamo soddisfatti sia per quanto riguarda le ore che sono state inserite all'interno del bando per garantire tutte le lavoratrici. E di aver trovato un'amministrazione che si è mossa anche in questa direzione sul confronto con le organizzazioni sindacali, a per la tutela delle lavoratrici sul posto di lavoro che per l'aumento delle ore. In più, il Comune ha istituito una commissione di vigilanza, dove saranno parte anche le organizzazioni sindacali per monitorare quello che ha l'andamento delle lavoratrici e per quanto riguarda il cibo che verrà erogato ai bambini. Commemorazione dei defunti, iniziativa Fiore Sospeso da parte dell'assessorato comunale ai servizi sociali. Se hai donas e non puoi prendi una frase semplice che è alla base dell'iniziativa voluta dall'assessorato ai servizi cimiteriali, un fiore è sospeso per contrastare gli episodi di furti di fiori all'interno del cimitero Angeli segnalate da molti cittadini. Proprio come il caffè sospeso partenopeo, il gesto gentile di un fiore da portare ai propri cari defunti è la risposta al comportamento di molti che hanno preso i fiori da loculi altrui per i propri parenti. Così un gesto di gentilezza vuole essere la base per una cultura del rispetto per chi non c'è più. A promuovere l'iniziativa l'assessore Andaloro. L'intento è aiutare per quello che si può senza nessun impegno, senza nessuna pretesa, questo sia chiaro. Ho voluto dare un segno a chi si prende fiori degli altri, non è giusto, non lo reputo una cosa sensata, per cui ho pensato io a cominciare da me, e questo è l'esempio, l'ho già detto nel precedente video, che in ebrei lanciato all'iniziativa il fiore sospeso. Chiunque senza sentirsi impegnato può mettere un fiore o prendersi un fiore, senza anche cercare il motivo. Chiunque lo può fare. Sono qui fino sicuramente al 2 novembre, dopodiché se va bene l'iniziativa la continuiamo. Riggio Cattoliamoci a Caltanissetta. Diversi gli appuntamenti in programma. Vediamo i particolari. I giorni della ricorrenza dei defundi patrocinato dal comune di Caltanissetta e in collaborazione con la protezione civile e l'associazione VIP Clown di Corsia, hanno organizzato l'avendo Riggio Cattoliamoci, che si terrà il 31 ottobre al Collegio Sant'Agata, il 1 novembre al quartiere Provvidenza nel laboratorio di ricreatività del progetto pilota e il 2 novembre a San Domenico. Scopo dell'iniziativa è donare ai bambini meno fortunati la possibilità di ricevere dei giocattoli nuovi o usati, donando loro un sorriso e due ore di gioia, intrattenuto dall'associazione VIP con giochi e tanto divertimento. Noi diciamo che siamo la parte colorata di queste giornate, perché cercheremo di portare più allegria possibile, perché comunque è un evento dove ci saranno protagonisti bambini ed è una parte a cui noi teniamo. A quella giornata noi cercheremo di fare bolle di sapone, balli, giochi, e per noi è molto importante perché questi eventi di volontariato sono affini con il nostro volontariato, che è quello di andare per le corsie, ma anche dove necessita un sorriso in più. Non mi resta che dirvi ci vediamo allora giorno 31, 1 e 2 novembre. Mi raccomando, accadete numerosi. Sabato 29 ottobre Casa Rosetta terrà nell'auditorium del seminario Vescovile, con inizio alle 10.30, la cerimonia di inaugurazione dell'anno 2022-2023 del corso universitario di Scienze dell'Educazione e della Formazione, che l'associazione svolge a Caltanissette in affiliazione con la Pontificia Auxilium. L'argomento scelto per la prolusione è la scuola e la formazione, un asset strategico e rinunciabile di qualsiasi percorso di sviluppo, e ne sarà relatore il professore Maurizio Caserta, ordinario di economia dell'Università di Catania. La prolusione sarà preceduta da brevi indirizzi di saluto della preside dell'Auxilium, Suor Piera Ruffinatto, e del presidente di Casa Rosetta, Giorgio De Cristoforo. A scuola di archeologia, all'Istituto Caponnetto, per conoscere e tutelare il patrimonio culturale della Sicilia Centrale. Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo Antonino Caponnetto di Caltanissetta ha avviato il progetto a scuola di archeologia Conosciamo e tuteliamo il patrimonio culturale della Sicilia Centrale. Iniziato lo scorso 25 ottobre, si svolgerà nel corso dell'intero anno scolastico, portando l'archeologia a scuola. E già lo scorso anno lo stesso progetto ha suscitato grande interesse da parte degli studenti e delle studentesse che hanno partecipato. Il progetto nasce in collaborazione con la sede Nissena di Sicilia Antica, presieduta da Stefania D'Angelo, con il parco archeologico di Gela, diretto da Luigi Maria Gattuso, con il parco archeologico di Morgantina e della villa del casale di Piazza Armerina, diretto da Livorio Calascibetta, con il comitato di quartiere Gibil Habib, presieduto da Salvatore Pecoraro con il nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri di Palermo, grazie alla disponibilità del comandante, il maggiore Gianluigi Marmora. Sarà attraverso un percorso attivo e stimolante che gli studenti apprenderanno usi e costumi, storia del passato. I soggetti coinvolti sono i nostri allunni di quarta e quinta primaria più gli allunni del primo e secondo anno della secondaria di primo grado. Sì, abbiamo pensato con questo progetto di mettere proprio in primo piano l'archeologia. Grazie a questo progetto la volontà nostra è quella proprio di far riscoprire il valore dei resti che abbiamo, soprattutto nella nostra zona, la Sicilia Centrale, e quindi da questo poter vedere le testimonianze che ci vengono dei popoli del passato che hanno abitato e quindi considerarli sia un valore di per sé archeologico da tutelare e da valorizzare sia anche come sviluppo successivo a memoria delle future generazioni, ma anche da poter sfruttare per quello che è il momento attuale, quello che potrà essere poi lo sviluppo successivo. E come direbbe Flaminia Cruciani, lezioni di immortalità, se il lavoro del poeta è scuotere il cielo aspettando che qualche frammento cada, il lavoro dell'archeologo è scuotere la terra, senza imbarazzo del cosmo, aspettando che qualche frammento di cielo appaia. Questo è un progetto di educazione al patrimonio culturale, quindi i ragazzi faranno inizialmente le lezioni frontali in cui impareranno cosa è l'archeologia, qual è la professione dell'archeologo e poi ovviamente in primavera faranno delle attività, quindi andranno a fare delle visite guidate al Museo archeologico di Caltanissetta, in cui faranno una sorta di caccia al vaso, perché faremo disegnare anche la ceramica durante le lezioni che terremo e poi faranno un'attività di survey, cioè di ricognizione sul terreno, nel sito archeologico di Gibilgavib. La regione siciliana aderisce alla giornata nazionale Giovani e Memoria, che si celebra lunedì 31 ottobre, offre agli Under 35 l'ingresso gratuito ai parchi archeologici, ai musei e ai siti culturali dell'isola, che per l'occasione resteranno straordinariamente aperti. E' quanto si legge in una nota della regione. Nata per raccontare le conquiste, le difficoltà, i traguardi, gli obiettivi del nostro paese, la giornata riconosce l'importanza di valorizzare il passato e l'identità quale patrimonio culturale di una comunità in un ideale passaggio di testimone tra generazioni. L'iniziativa, istituita con una legge del 2021, celebra quest'anno la sua prima edizione. E' importante, sottolinea il dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Franco Fazio, trasmettere ai giovani la memoria del nostro passato perché realizzino di essere parte di un processo che ha radici profonde. Noi siamo il frutto della nostra storia e delle tradizioni che si sono radicate nel tempo. Occorre farsi farico di questo passaggio di testimone affinché il nostro passato sia storia viva, modello di comportamento, recupero di identità e testimonianza di memoria. Caltanissetta, Rosso in Piazza, le iniziative teatrali con Aldo Rapè. Ha preso il via a Caltanissetta il progetto Rosso in Piazza, letture teatrali. Tra le iniziative torna il premio di cultura Pier Maria Rosso di San Secondo, bandito dal Comitato Provinciale della Dante Lighieri di Caltanissetta e dal Parco Letterario Pier Maria Rosso di San Secondo. La sede centrale ha bandito proprio un premio speciale per i comitati per i migliori progetti. Noi abbiamo partecipato con il progetto Rosso in Piazza, letture teatrali, che è il risultato uno proprio dei progetti vincitori e che potrà avere per l'intera sua realizzazione 8.000 euro. Il premio consiste in una serie di momenti, alcuni dei quali abbiamo già iniziato con Aldo Rapè, i ragazzi di tutte le scuole. La novità assoluta è quella che in questo momento vogliamo valorizzare la figura della donna nella novellistica di Rosso di San Secondo, cosa che non è stata ad oggi adeguatamente affrontata. Siamo certi alla fine che qualcosa di nuovo e di bello verrà fuori. L'edizione di quest'anno del premio, che verterà proprio sul tema della donna nella narrativa dello scrittore, prevede due sezioni. Quella per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che singolarmente o in gruppo possono presentare elaborati, scritti, grafici, pittorici, prodotti multimediali o ancora ad esempio cortometraggi, e l'altra sezione è dedicata agli studenti della scuola secondaria superiore e agli adulti. In questo caso si potrà partecipare con poesie, racconti, novelle, testi teatrali o prodotti multimediali. I lavori consegnati entro il 18 novembre saranno valutati da un'apposita commissione di esperti, prevedendo in base alle sezioni diversi premi, che verranno poi consegnati durante la premiazione di dicembre. Una parte del progetto sarà dunque dedicata ad un approfondimento delle novelle di Pier Maria Rosso di San Secondo, che leggeranno e interpreteranno in centro storico il 30 novembre, guidati dal regista Aldo Rapè. Un'iniziativa questa abbracciata anche dalla strada degli scrittori e dal comune. Il progetto si svolgerà nel tutto il mese di novembre. Io ho solo parlato intanto con i ragazzi, poi li incontreremo dai primi di novembre, cominceremo a fare dei piccoli e veri laboratori teatrali all'interno delle scuole che hanno aderito e poi darò a loro delle novelle selezionate. Sono novelle che hanno a che fare in qualche maniera con Caltanissetta, addirittura molte che parlano della città, per poi portarle insieme teatralizzate, giorno 30 novembre, nell'anniversario della nascita di Rosso, proprio tra la piazza e i luoghi che hanno caratterizzato un po' la vita di Rosso e un po' i luoghi di cui lui parla delle novelle. Quindi faremo un giro a partire dalla casa natale di Rosso, poi andremo alla biblioteca, partiremo dalla piazza, insomma diversi luoghi selezionati dal comitato Dante Lighieri e lì ragazzi teatralizzeranno le novelle. E passiamo allo sport calcio, non aggiornata del campionato di Serie D in programma domenica. Derby per la San Cataldese al provinciale di Trapani. La squadra verde amaranto è a caccia di punti per tirarsi fuori dalla bassa classifica. Le altre partite in programma, Locri Castrovillari, Santa Maria Realaversa, Ragusa Girreale, San Luca Lamezia, Mariglianese Paternò, Vibonese Cittanova, Catania Sant'Agata, Licata Canicattì. In eccellenza invece la Nist ospiterà il Gela al Palmintelli per un derby che si preannuncia ricco di contenuti agonistici. I biancoscudati puntano alla seconda vittoria stagionale. Le altre partite in programma per l'ottava giornata sono Casteldaccia Castellammare, Leon Fortese Enna, Resuttana Don Carlo, Sciacca Parmonval, Acragas Profavara, Mazzara Cus Palermo, Oratorio Marineo Mazzarese. Andiamo adesso al volley, in serie B femminile. L'Alba Verde Caltanissetta torna in campo per la quarta giornata di campionato, obiettivo delle nissene impegnate sul campo del Gioiosa Ionica all'ennesima vittoria per proseguire il cammino a punteggio pieno in betta alla classifica. Così Sara Miceli, in vista della partita in terra calabra, sulla pagina Facebook dell'Alba Verde. Questo è il primo banco di prova con una squadra che è sotto di non leggermente di un punto, quindi comunque la classifica ancora è tutta da decidere, è indicativa. Comunque io penso che bisogna affrontare partita dopo partita, con il giusto atteggiamento, grintoso, senza dare nulla per scontato, palla dopo palla, poi il resto verrà da sé. Ovviamente le prime partite sono state partite che abbiamo affrontato con il giusto atteggiamento e che hanno dato i loro frutti, quindi speriamo sempre di essere al top anche in questa e nelle prossime, appunto pure più difficili, e di dare il meglio. Il nostro obiettivo è di migliorarci azione dopo azione, non ci interessa il resto. Le altre partite in programma sono Fidelis Torretta, Stefanetta Planet Cuscatania, Comiso Valley, Alus Crotone, Saracena e Ricina, Region Reggio Calabria, Zafferana. E restiamo con lo sport domenica di kickboxing al Palacannizzaro, con inizio fissato alle 19. Il servizio. Stamani nel foiello del comune si è tenuta la conferenza di presentazione dell'evento che si terrà domenica 30 ottobre al Palacannizzaro di box tie e kickboxing, denominato H24 Top Fight Night, in cui oltre a sponsorizzare l'evento che inizierà alle ore 19, è stata l'occasione per presentare l'atleta nisseno Matteo Locascio, che parteciperà ai campionati mondiali che si terranno in Turchia dal 2 al 6 di novembre. Scopo dell'evento è portare avanti il progetto che Calogero Barmeri ed Elisa Giannello stanno portando avanti a Caltanissetta, ed è quello di unire la passione per questo sport alla sana nutrizione, elemento fondamentale per tutti gli sportivi. Muay Thai, Kikushengai e K1 sono le tre discipline che andranno in scena questa domenica al Palacannizzaro che torna di nuovo a essere vetrina di un evento spettacolare, e oltre chiaramente a distribuire delle cinture. Finalmente questo evento che riporta le arti marziali qui a Caltanissetta, gli sporti da ring, oggi presenteremo anche, oltre alla giornata che ci sarà domenica, al Palacannizzaro, dove saranno coinvolte diverse società, la Sicilia e anche società che verranno da altre regioni d'Italia, e presenteremo anche il nostro atleta Matteo Locascio che sarà ai mondiali in Turchia, quindi non sarà con noi giorno 30 perché è stato convocato appunto dalla nazionale dopo aver vinto i campionati italiani e quindi siamo qui a presentarvi questa fantastica notizia e questo spettacolo che ci sarà domenica, giorno 30. L'evento mira a prendere in considerazione il progetto lavorativo che stiamo portando avanti a Caltanissetta e non solo perché lavoriamo in tutta Italia, ed è quello di unire lo sport alla sala nutrizione e quindi dare la possibilità agli atleti e ai ragazzi come me di vivere della propria passione. Sarò orgogliosissima di partecipare all'evento anche come atleta, quindi gareggiare a casa è sempre un'emozione, per me sarà la prima volta tra l'altro che gareggio in casa mia e quindi vi aspetto tutti il giorno 30 ottobre. Bene, per questa edizione è tutto, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi lascio al meteo e alle notizie di pubblica utilità. Appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo, giornata di sabato, quando un possente campo di alta pressione interesserà tutta l'Europa centrale e mediterraneo, alta pressione di matrice nordafricana con aria mite dal nordafrica, dal continente africano verso le nostre regioni. Nel dettaglio, infatti, sarà una giornata con assenza di precipitazioni, le perturbazioni atlantiche molto più ad ovest, verso le isole britanniche ed il nord della Francia. Dettagli quindi per la giornata di sabato, quando possiamo notare su tutto lo stivale sole protagonista, solo di notte locali nebbie e foschie dense in pianura padana e sulle vallate appenniniche. Temperature estive sul lato tirrenico e sardegna con massime fino a 27 gradi. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Buonasera Via Edmondo De Amicis Servizio notturno Pasqualino Via Xiboli Villaggio Santa Barbara Via Com bottle Via 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 Grazie a tutti.